Oh, eccoci, è arrivato il segnale a tutti i colleghi giornalisti, quindi possiamo comunicare senza censure. Grazie per la presenza, ho appena esercitato il mio diritto, dovere di votare per scegliere un Presidente della Repubblica all'altezza, sono deluso dal cittadino italiano, dalla fuga della sinistra che diserta il voto e diserta anche le riunioni di maggioranza, però speriamo che non sia la giornata della diserzione, però vorrò di reincontrarci dopo il voto nel pomeriggio e prima del secondo voto perché se non ci si parla e si fugge e non si vota la situazione non si risolve. È vero che siamo al quinto giorno, qualcuno sui giornali dice che sono già passati cinque giorni, stiamo parlando della scelta del Presidente della Repubblica, di tutti gli italiani per i prossimi sette anni, abbiamo passato due anni a seguire il DDL ZAN, se ci fugiamo per cinque giorni di Quirinale penso che sia un dovere farlo. Noi oggi abbiamo fatto una proposta la massima possibile.